e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi un video un po particolare perché vi porterò in un gran premio di go kart un gran premio un gran premio amichevole che ho fatto con i miei colleghi e dei miei amici a me è piaciuto tanto fare questo questo gran premio questa questa gara e mi è piaciuto tanto anche montare il video spero che vi piaccia anche a voi è una cosa un po diversa dal solito e niente vi ricordo comunque di iscrivervi al canale vi ricordo di seguire anche il canale di offerte per i motociclisti di telega il link è qua sotto e niente buona visione e alla prossima ed eccoci qua per questo gran premio primo gran premio coppa del nonno ragazzi qua da cinisello balsamo qua dalla pista del mo kart mo kart di cinisello balsamo giornata che si dividerà in tre sessioni 10 minuti di qualifiche 10 minuti di gara 1 e 10 minuti di gara 2 quindi si parte per gara 1 il primo che parte è simone ovvero il motociclista solitario ovvero io secondo la partenza mariano terzo roberto quarto stefano quinto alessandro e sesto visual prima prima sessione di qualifiche che parte si parte subito alla caccia della pole position ragazzi quindi i nostri piloti che iniziano a prendere confidenza con la pista pista che molti non conoscono e vediamo subito infatti un po di traffico visto che non si conosce bene la pista intanto qua una botta subito violenta una botta subito violenta vediamo cosa è successo ragazzi è successo si qua vediamo il traffico e mariano che si parte subito contro simone fortunatamente conseguenze zero e si va avanti alla ricerca del tempo quindi ragazzi eccoci qua si parte subito a a fare derapare le macchine ego kart qua ultimo curvone che immette sul rettifilo dell'arrivo quindi pista molto tecnica pista molto difficile e c'è da studiarla bene presenta molti curvoni veloci ma anche molti molte curve strette quindi un un groviglio di curve un groviglio di gomme dove passare e cercare la traiettoria più più giusta per per fare appunto il tempo il tempo che porterà poi alla pole position intanto vediamo mariano che arriva a superare vision mariano che è partito subito a cannone ma dietro di lui subito c'è simone ovvero il motociclista solitario ovvero io che sto facendo questa telecronica non essendo un telecomista tanto qua si prova a fare il tempo anche qua il tempo non si riesce a fare l'alessandro che per lui è la prima volta in go kart infatti si vede infatti sta andando molto piano per prendere la sua confidenza con il mezzo ecco qua ragazzi vediamo la ricerca la ricerca del del tempo da parte di tutti i concorrenti vediamo qua alessandro che fa un po da tappo e non consente a al nostro simone di fare il tempo una una coppa una coppa che è tra amici non c'è nessuno che fa il pilota di mestiere quindi ragazzi questo è solo fatto per puro divertimento per pura passione per pura gogliardia ragazzi intanto visual visual vediamo visual che va per gomme che va per gomme ragazzi spieghiategli che le gomme non fanno parte della pista però lui comunque intrepido continua a schiacciare il piede destro sull'acceleratore alla ricerca del tempo alla ricerca di una pole position che vediamo a chi poi andrà intanto qua mariano mariano che sta facendo faville sta facendo fuoco e fiamme sta facendo già vedere la sua stoffa infatti è sempre primo nei tempi vediamo se riuscirà a mantenere la vetta di questa qualifica intanto roberto che ci dà dentro anche lui e simone che cerca di sfruttare un po la scia di sfruttare un po le traiettorie che fa e copiare per anche lui fare un tempo che possa portarlo più avanti possibile intanto qua il nostro alessandro che continua andare a spasso eccoci qua con visual roberto e simone che passano uno dietro l'altro pista davvero molto bella molto divertente quella di cinisello balsamo quella del mo kart ragazzi intanto qua mariano che continua a macinare tempi su tempi grande grande la stoffa di questo ragazzo che sta davvero facendo faville vedremo se in effetti riuscirà a portare a casa questa pole position tanto attesa tanto voluta intanto qua lo spettacolo va avanti ogni curva la fa come se fosse uscito dalla formula 1 uscito da una pista di formula 1 appunto qua intanto simone che ancora vuole copiare e roberto che sta facendo meglio di lui negli intertempi e mariano che raggiunge qua il nostro simone che a questo punto si sente anche un po anche un po tallonato da parte di mariano quindi andiamo avanti con la ricerca di questo tempone tempi che poi vedremo all'arrivo come andrà attenzione qua altra botta altra botta i due si mandano proprio al paese anche se poi mariano chiede scusa e lo perdoniamo si perdonano queste cose d'altronde siamo tutti al limite siamo tutti alla ricerca di questo di questa pole position e qua ragazzi eccoci qua nel momento della messa in griglia qua adesso scopriremo un po i tempi scopriremo un po chi verrà messo in griglia uno dopo l'altro si verrà messo in griglia per poi la partenza di gara 1 quindi primo parte mariano che ha conquistato questa pole position e infatti ha dimostrato già di essere di un'altra categoria di un'altra categoria secondo roberto che ha fatto davvero un gran tempo una gran qualifica anche lui terzo a sorpresa stefano che agguanta la terza posizione proprio nelle ultime tornate negli ultimi giri quarto 4 vedremo chi è quarto il nostro simone che si vede assumata la terza posizione negli ultimi giri anche lui e andrà a mettersi appunto nella terza nella quarta quarta posizione di partenza quinto il nostro visual che data la sua provenienza intanto mariano che si prende gioco di quelli dietro come ripeto poi visual in quinta posizione e alessandro in sesta posizione vigia che data la sua provenienza dall'india più profonda rende questo trofeo intercontinentale ragazzi qua prova di luci per la partenza vediamo i nostri piloti pronti appunto per la partenza luci rosse luci rosse vediamo le luci rosse alla fine delle luci rosse si parte ragazzi si parte si parte ecco qua la partenza partenza subito 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 il nostro simone che agguanta subito la terza posizione un grande sorpasso già dall'inizio e cerca subito di andare ad agguantare i due là davanti attenzione si gira il roberto e però riesce già a ripartire subito scattante come una faina e simone è solo da già solo da mettersi in coda in terza posizione qua quindi la prima tornata mariano roberto simone dietro stefano poi subito visual e alessandro alessandro che è la prima volta ripeto che prende in mano uvo carte e deve ancora prenderci un po' confidenza ma sta migliorando ragazzi sta migliorando attenzione qua il nostro simone che si gira si gira prende anche una piccola botta da parte di stefano ma riparte subito e mantiene stretta andino la quarta posizione vedremo se poi riuscirà a recuperare a presto Grazie a tutti